Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi tornano gli ex campioni delle isole Maldive e delle isole Marshall, si affrontano una partita piena di colpi di scena e anche quest'anno lo spettacolo è assicurato. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui, super sfida tra campioni, 500 spettatori in sala, i due vengono accompagnati dalle guardie del corpo perché l'ultima volta il pubblico aveva cercato di attaccarli perché avevano giocato male e quindi avevano deluso. Queste sono partite dove vengono fatte le scommesse, quindi si può scommettere su queste partite, c'è molta tensione. L'ex campione delle Maldive inizia con E4, segue E5, donna H5, cerca subito di sorprendere il suo avversario con il matto del barbiere, la mossa che non ti aspetti a questi livelli. Anche il pubblico rimane molto sorpreso, qui tutti sanno che la mossa migliore è cavallo C6 per difendere il pedone in E5, ma l'ex campione delle Isole Marshall gioca cavallo F6, sviluppa un pezzo, attacca la donna, però lascia il pedone in E5 in presa. Magari fa parte di una strategia, il bianco cattura il pedone, segue Alfie R7, donna in G5 attaccando il pedone in G7, l'ex campione delle Maldive individua le debolezze e cerca di attaccarle, segue H6, l'ex campione delle Marshall attacca la donna e la donna entra e cattura il pedone in G7. Segue torre F8, donna per H6, dopo sole 6 mosse il bianco ha ben 3 pedoni in più. A questo punto il campione delle Maldive è tutto contento, con 3 pedoni in più inizia a fissare negli occhi l'avversario, questo mentre pensa ogni tanto alza lo sguardo, vede l'avversario che lo sta guardando e allora si sente sotto pressione perché deve giocare a scacchi insomma. Quindi prende, si alza, va dall'allenatore e prende gli occhiali a specchio, come fece Corchnoi contro Karpov, così non si vedono gli occhi. Si mette seduto e ritira indietro il cavallo in G8. Attacca la donna. L'ex campione delle Maldive ovviamente vede che la donna è in presa e gioca donna G7, mantiene la donna in attacco. Segue di nuovo cavallo F6 attaccando il pedone in E4 e qui l'ex campione delle Maldive invece di difendere il pedone vuole attaccare, gioca al ferici 4, sa che la casa F7 è una casa critica quindi mette pressione in F7. Peccato però che al momento F7 è difeso dalla torre, quindi effettivamente sta lasciando il pedone in presa. Questo pedone viene catturato e qui arriva un altro errore, ma questa volta un errore molto molto grave. L'ex campione delle Maldive gioca pedone B3. Oh mio Dio, guardate la barra del motore, va tutta giù. Perché va tutta giù? Perché chiaramente qui c'è alfiere F6, ci sarebbe il doppio a donna e torre, tatticismo di base. Quindi c'è un momento di confusione anche da parte del pubblico. L'ex campione delle Marshall inizia a guardarsi intorno, non capisce quello che sta succedendo e manca clamorosamente la mossa giusta. Non gioca alfiere F6, ma continua con cavallo D6, ritira indietro il cavallo e attacca l'alfiere in C4. Ora il bianco passa di nuovo in vantaggio. I tifosi ci rimangono malissimo, un campione non può fare certe sviste chiaramente. E allora il bianco qui che era partito con l'idea di giocare alfiere B2, continua con alfiere A3. Per qualche motivo non vuole più arroccare. Attacca il cavallo in D6. Qui di nuovo ci sarebbe la mossa alfiere F6 con guadagno di materiale per il nero. Ma di nuovo questa mossa viene mancata. E il nero continua con cavallo per C4. Una partita, come potete vedere, piena di errori. Ora, l'ex campione delle Maldive, invece di catturare il cavallo in C4, cattura l'alfiere in E7, pensando di giocare una buona mossa intermedia. Peccato che dopo donna per E7, il nero riprende dando scacco e poi può salvare il cavallo da C4. Quindi il nero rimane con un pezzo in più. La partita si è ribaltata. L'ex campione delle Maldive qui continua con Re D1. È costretto a muovere il Re, però in questo modo perde l'arrocco. In realtà poteva anche giocare cavallo E2 per mantenere la possibilità di arroccare, ma decide di giocare Re D1. Ma il momento più buffo della partita arriva qui. Il nero ha un pezzo in presa. Questi sono campioni. Ma invece di spostare quel pezzo, decide per qualche motivo di difenderlo. Gioca pedone B5. È una mossa veramente assurda che non verrebbe mai in mente a nessuno. Che cos'è questa mossa? Sta difendendo il cavallo, ma il cavallo è in presa. Talmente assurda è questa mossa che l'ex campione delle Maldive qui rimane completamente spiazzato. Non capisce l'idea di questa mossa, semmai ce ne sia una dietro. E ritira la donna indietro in C3 perché si spaventa. Non ci posso credere. Gioca donna C3. Non capisce bene quali sono i piani del nero. E allora l'allenatore lo richiama e gli dice, ma che cosa stai facendo? Dato che ovviamente non gli può suggerire le mosse, gli dice semplicemente, che cosa stai facendo? E lui risponde, eh beh, qui ho perso l'arrocco, devo cercare di difendermi in qualche modo. Ok, qui però arriva l'ennesimo errore. L'ex campione delle Marshall gioca pedone D5. Ma che cosa sta facendo? Gioca D5 e non si accorge del cavallo in presa. Il cavallo rimane ancora lì, in presa. Entriamo nel vivo della partita. Il bianco, di nuovo, non cattura il cavallo, ma gioca donna F3. Si accorge che il pedone in D5 è in presa e quindi aumenta la pressione sul pedone in D5. Il nero difende con alfiere E6. Di nuovo, il cavallo rimane in presa. Il bianco lo potrebbe catturare, ma niente, gioca cavallo C3. Attacca il pedone in D5. Aumenta la pressione. Qui una parte del pubblico inizia ad agitarsi perché si chiede, ma cosa stanno facendo questi? Insomma, iniziano a lanciare oggetti nella sala. Uno di questi oggetti, un pallino di carta, colpisce la testa l'ex campione delle Maldive. Fate conto che questo è mezzo calvo e dice, aia! Si sente il colpo, ragazzi, fa aia perché lo sente. Qui viene fermata la partita, è costretta a intervenire la sicurezza e alcuni, una parte degli spettatori, vengono accompagnati fuori dalla sala di gioco perché ovviamente non si possono fare queste cose. E allora la partita riprende, riprende con pedone C6, il nero di nuovo non sposta via il cavallo, rimane ancora lì per chissà quante mosse che è lì e non se ne stanno accorgendo. Sembra mimetizzato questo cavallo. Rispetto a un anno fa possiamo sicuramente dire che i due stanno giocando male e infatti sono ex campioni ormai, non sono più i campioni. Il bianco continua con pedone A4, non si sa bene che cosa stia facendo, guardate che mosse ragazzi. A4 a cosa servirà mai? Non si capisce. Attacca B5, arriva pedone A6 per difendere, il cavallo rimane lì tranquillo in presa, segue pedone per B5, pedone C per B5 e ora il bianco si accorge che c'è un attacco doppio in D5 e cattura con il cavallo. Segue alfiere per D5, donna per D5, la donna attacca la torre in A8. Ma qui attenzione, colpo di scena, il nero si accorge di avere un cavallo e lo sposta in B6, clamoroso. Attacca la donna, difende la torre in A8, bella mossa questa. Il pubblico allora si esalta e il campione delle isole Marshall inizia a essere tutto molto contento. Segue donna F3, il bianco si accorge di avere la donna in presa, la ritira indietro. Torre A7, anche il nero si accorge che questa torre qui è in pericolo, quindi gioca torre A7. Segue donna E3, l'ex campione delle Maldive offre il cambio delle donne. Segue donna per donna, pedone per donna e rientriamo in questa posizione. Il bianco ha 6 pedoni contro 3 pedoni per il nero, ma ha un pezzo in meno. Il nero ha un cavallo in più, quindi la posizione è molto squilibrata. L'ex campione delle Marshall gioca cavallo D5, cerca subito di attaccare in qualche modo con il cavallo. Arriva pedone H4, bellissima mossa. L'ex campione delle Maldive vuole semplicemente andare a promozione. Segue torre in A8 per fermare l'avanzata del pedone. Pedone H5, ma qui arriva una mossa clamorosa, senza nessun senso. Il nero decide di catturare il pedone in H5, non ci posso credere. Ma cosa fa? Sta sacrificando la torre. E quindi ovviamente il bianco dice ma aspetta perché qui c'è una torre in presa. E quindi cattura la torre ovviamente, no? Attacca anche il cavallo. Il cavallo viene spostato in F6, attaccando la torre. Il bianco gioca a pedone G4. Oh mio Dio, che partita ragazzi. Lascia la torre in presa, la difende con il pedone. Il pedone è in presa, la torre è in presa. Il nero cattura la torre e qui segue addirittura a pedone G5. No, che partita. Che partita, non ci posso credere. In pratica qui il bianco va a toccare il pedone. Tutti pensano, vabbè ma catturerà il cavallo, che ci vuole? No, invece lo spinge e lascia il cavallo lì in H5. Non ci posso credere. Qui il pubblico impazzisce, partono le offese, pensano che sia tutto combinato per via delle scommesse. Arriva cavallo G3, pedone E4. Ora il bianco è impazzito, sta semplicemente spingendo i pedoni. Tra l'altro il pedone è in presa, segue cavallo per E4, cavallo H3 difendendo il pedone in G5, cavallo F2. Il nero riprova con la tecnica della mimetizzazione. Attenzione, mette un pezzo in presa ragazzi. Guardate qui, il cavallo è in presa, però ci riesce per la seconda volta. Vi ricordate il cavallo qui che è rimasto per 12-13 mosse in C4? E beh, qui di nuovo, gli mette un pezzo in presa, il bianco sposta il re e perde il cavallo, chiaramente. Arriva il cavallo per H3. Questo è il loro modo di giocare a scacchi. Uno spettacolo più unico che è raro. Segue torre H1, ormai il bianco è rimasto solo con la torre. Cavallo F4, re F3, cavallo D5. Re in G4, il bianco avanza con il re, vuole andare a promozione. Segue cavallo D7, torre in H8, scacco, re 7, torre G8. Il bianco vuole avanzare il pedone. Qui arriva cavallo E5, scacco, re F5, cavallo C6. L'ex campione delle Marshall è molto contento, ha ben due pezzi in più e vuole venire a catturare i pedoni. Qui segue re E4, attaccando il cavallo in D5. Torre D7 per difendere il cavallo. Pedone G6. Ecco, questa è l'ultima chance. Qui il bianco spera che questo pedone non venga catturato. E invece l'ex campione delle Marshall trova la mossa giusta e cattura il pedone. Ora la situazione si fa molto critica. Come fa il bianco qui ad avere chance, ad avere speranze? Eh, non si sa mai, non si sa mai. Quindi segue torre G7, scacco, re 6, torre per G6, scacco, re 7. Ops, attenzione perché c'è un pezzo in presa, vedete? E il bianco cattura, ovviamente si riduce il vantaggio e il nero rimane solo con un pezzo in più. Qui segue torre D6. L'ex campione delle Marshall sa benissimo che ha partita vinta. Offre il cambio delle torri e difende il pedone in A6. Arriva torre C5, attaccando il cavallo. Il cavallo si sposta in F6 con scacco e arriva re in E5. Un errore questo, un grave errore. Qui basterebbe fare cavallo D7 per dare il doppio a torre re e la partita sarebbe da abbandono. Ma l'ex campione delle Marshall sotto stress con poco tempo sull'orologio. Non trova la mossa giusta. E gioca torre D7. Sbaglia pezzo. Non ci credo. Gioca torre D7 invece di cavallo D7. Ok, arriva torre C6 di nuovo, attaccando il pedone e attaccando il cavallo. Torre D5 scacco. Re F6. Cavallo H5 scacco. Re in E4. E torre per D2. Il bianco continua con torre per A6. Si sta semplificando il gioco. Pedone B4. Per qualche motivo il nero spinge il pedone. E allora arriva torre A7 scacco. Re 6. Torre A6 scacco. Torre D6. Il nero vuole cambiare le torri per qualche motivo. Non si capisce perché. Perché il re comunque qui è troppo vicino. Poi questo pedone cade. Ma purtroppo il bianco neanche cambia. Poteva cambiare, era pari. Invece non cambia, rischia di perdere. Vado ad attaccare il pedone. Segue torre B6. Difende il pedone. Re in D4. Ora il bianco trova la strategia giusta. Vuole andare a catturare il pedone in B4. Quindi segue Re D6. Re C4. Re C6. E pedone C3. Di nuovo poteva catturare. Invece gioca il pedone C3. Comunque l'importante è far fuori i pezzi. Ora la posizione è cavallo e torre. Contro due pedoni e torre. Completa parità. Una partita allucinante. Una partita incredibile. Nessuno avrebbe mai detto che sarebbe potuta finire pari. Però attenzione. Perché la partita continua. Arriva cavallo D7. Pedone B5 scacco. Sacrificio di pedone. Torre per. Torre in B4. Il bianco offre il cambio. Ma qui ha partita persa. Perché qui c'è un tatticismo. Non facile da vedere. Ok. Però c'è un tatticismo. Ma il nero non lo trova. Gioca torre per torre. Pazzesco. E ora è impossibile vincere. Poteva fare cavallo B6 scacco. Se il re si sposta. Il bianco perde la torre. Quindi se il re continua a difendere. Arriva cavallo in D5. Dando scacco attaccando la torre. E questa partita è vinta per il nero. E invece qui cosa succede? Torre per torre. Re per. E qui ormai la posizione è completamente pari. I due comunque continuano a giocare. Segue cavallo E5. Re C3. Re C5. Pedone B4 scacco. Il re si tira indietro. Re B3. Cavallo D7. Re A4. Anche se sono campioni. Per qualche motivo decidono di continuare di giocare in questa posizione. Cavallo B6 scacco. Re A5. Cavallo in C4. E qui fanno triplice ripetizione. E la partita finisce così. Finisce in parità. Una partita combattutissima. Il pubblico si alza in piedi ad applaudire. Questi campioni regalano sempre tante tante emozioni. E anche oggi hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere in piace. Di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.